buongiorno a tutti e tutte benvenuti alla seconda puntata di tg sherwood ciao davide ciao antonio e di cosa parliamo oggi allora oggi iniziamo a parlare di tanti argomenti rispetto al scorso tg sherwood il primo è proprio l'arresto di mimmo lucano poi parleremo anche dell'assemblea nazionale non una di meno e poi che altri argomenti tratteremo parleremo della manovra finanziaria parleremo delle elezioni presidenziali che si sono tenute in brasile abbiamo tanti argomenti oggi sul tavolo e iniziamo da mimmo lucano vero davide si iniziamo dall'arresto di mimmo lucano mimmo lucano sindaco di riace è stato arrestato il 2 ottobre scorso con accusa di favoreggiamento alla all'immigrazione clandestina è affidamento fraudolento diretto al servizio di raccolta rifiuti a due cooperative della zona e questa è un'inchiesta che è partita nel nel 2017 con delle accuse anche molto gravi che nel corso di questo ultimo anno sono decadute e quindi sono rimaste soltanto soltanto queste due questi due capi di accusa nello specifico contestano un matrimonio di comodo tra un abitante di riace è una una clandestina e questo affidamento alle cooperative per quanto riguarda il servizio dei rifiuti la roba del matrimonio è alquanto ridicola perché comunque come ha detto mimmo lucano gli atti sono stati proprio pubblicati sono state le pubblicazioni degli atti di matrimonio al comune come come da regola quindi chiunque voleva diciamo dire qualcosa poteva benissimo benissimo farlo per quanto riguarda il business della dell'immondizia è alquanto ridicolo che il fatto che siano state date queste due dati in appalto a queste due cooperative rispetto invece a darle come è di solito in tutta italia ma soprattutto al sud a quelle cooperative con i venti con con la mafia davvero fa fa sorridere l'attacco a mimmo lucano è un attacco ovviamente politico è un attacco politico perché come abbiamo detto più volte il modello riace un modello di accoglienza universale un modello che è stato addirittura studiato veramente da da più parti del del mondo e questo arresto ha ha smosso davvero le anime di tutta italia e di maniera molto molto trasversale sabato scorso appunto c'è stata una una manifestazione una manifestazione nazionale a riace dove hanno partecipato migliaia di persone mimmo lucano si è affacciato dalla sua finestra perché al momento si trova agli arresti domicili domiciliari e ha salutato e in maniera molto calorosa tutto tutti tutti i manifestanti come dicevo in precedenza è stata attaccata la buona accoglienza una buona accoglienza che si contrappone a quella che è la paura che si contrappone alla devastazione dei territori e soprattutto alla criminalità fa sorridere che matteo salvini ha attaccato in maniera molto molto forte matteo salvini che sappiamo tutti essere il mandante politico di di questo arresto attaccato in maniera molto forte non soltanto mimmo lucano ma anche tutti i buonistili ha definiti lui che che hanno difeso che hanno difeso mimmo e nel suo stile comunicativo ha anche postato addirittura un video in cui intervistano un abitante del del paesino di riace che non le manda a dire a mimmo lucano il problema è che la persona intervistata è un affiliato alla landranche da ex sindaco quindi anche di riace quindi anche ex diciamo avversario politico di mimmo lucano e quindi diciamo salvini ha fatto ancora una volta una figuraccia ma ascoltiamo le parole di mimmo lucano che sono le prime parole che mimmo ha rilasciato ai giornalisti uscendo dal dal tribunale di locri il gipo ha detto così sindaco lei su questo nessuno le contesta nulla perché io stesso ho fatto queste ho fatto queste deduzioni capisco quello quello che dice lei dove riace con con non è che ha soldi più di altri sfrarr con gli stessi soldi abbiamo fatto accoglienza integrazione questa è la differenza il mondo guarda riace per questo i rifugiati sono protagonisti del territorio vivono e questa è stata un'opportunità anche per i locali perché ci sono nate tante opportunità e non è che ci giriamo dall'altra parte poi personalmente a me dico a me non le contestiamo nulla perché sappiamo che non c'è stato nessun arricchimento io ho perso un certo io ho dato non ce lo dico chiaro anche i miei soldi che mi hanno dato come 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 premio sono stato a berna mi hanno regolato dei soldi in contanti per un premio nel 2014 non mi ricordo anche a dresda nel 2017 non ho tenuto per me nemmeno i soldi quando mi hanno chiesto nemmeno i soldi che erano miei potevo fare quello che volevo non ho tenuto ho messo per tutti poi quando hanno fatto questa fiction mi hanno detto quanto mi devo pagare io non voglio niente si è meravigliato noi siamo pensiamo in un mondo dove tutto funziona con con l'economia con i soldi che siamo per me non è stato così io mi sono messo a disposizione di tutti non da con questa parola disposizione che vuole significare altre cose come disponibilità umana questo salvini ha detto cosa diranno i bonisti dopo il tuo resto io non dico bonisti io oggi ho ribadito una cosa molto chiara che voi mi potete dire che per le regole però attenzione forse la costituzione italiana la rispetto più io che non tanti che voi vi nascondete tutti dietro le regole la prima regola e della costituzione italiana credo che che nasce dalla resistenza e per avere rispetto della dignità degli esseri umani la prima regola questa e questi esseri umani possono essere non hanno colore della pelle non hanno nazionalità sono tutti esseri umani allo stesso modo con nessuna differenza torniamo in studio dopo aver sentito le parole di mimmo lucano è necessario ribadire un fatto che le migliaia di persone che sono scese in piazza riace non possono aspettare quella riabilitazione a posteriori c'è stato un editoriale di melting pot molto bello su sulla manifestazione di riace in cui si sottolineava proprio il fatto che di sicuro la figura del sindaco sarà una di quelle a cui la storia darà ragione e ma è necessario anche dire il fatto che le tantissime persone si parla di 5 mila persone in piazza riace che sono scese da tutta italia a sostenere mimmo lucano non possono aspettare il corso della storia e c'è un grido che è stato forte che è partito dalla città calabrese ed è un grido non solamente di sostegno al sindaco di sostegno a un mimmo lucano che ha subito una delle più grandi ingiustizie che questo paese ricordi quantomeno nell'ultimo periodo ma tante persone si sono spese nel voler dire di mobilitarsi immediatamente contro il decreto salvini come dicevi prima tu davide il mandante politico di questa operazione è sicuramente il ministro dell'interno al di là poi dopo degli aspetti più giudiziari della vicenda ed è vero che c'è un decreto un decreto che è stato tra l'altro firmato dal presidente della repubblica quindi è in vigore un decreto che cambia non solamente le sorti dei migranti nel nostro paese ma prova a riscrivere in forma reazionaria alla storia politica giuridica la storia della cittadinanza in questo paese ricordiamo che sabato prossimo presso la locanda atlantide in via dei lucani 22 a roma ci sarà una un'assemblea nazionale un'assemblea nazionale che è il frutto di un percorso iniziato già da tempo un percorso che ha visto la mobilitazione contro la frontiera ovest a 20 miglia essere al centro di 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 una giornata di di lotta politica con tante persone che hanno raggiunto il confine per chiedere l'apertura di di quella frontiera una un'assemblea che è il frutto di di tante altre giornate di incontro di discussione proprio sul tema della migrazione ma per contrastare quest'ondata reazionaria che stiamo vedendo nel nostro paese che ha proprio nel nel decreto salvini una delle espressioni massime il decreto salvini è stato trattato da da tante persone in in questo in questi giorni dal punto di vista giuridico dal punto di vista politico anche su global project punto info abbiamo fatto uno speciale c'è un articolo molto bello scritto da rossella puca che da una lettura politica e giuridica di questo decreto e rossella scrive 30 pagine di puro tecnicismo normativo ma questo decreto di fatto amplifica quella retorica e quella ideologia securitaria e già avevamo visto con i precedenti decreti sul tema su questo binomio tra immigrazione e sicurezza ad esempio quello di minniti che comunque è stata una stretta importante alle libertà individuali sicuramente nel decreto salvini come dicevo c'è un tentativo di riscrivere in senso reazionario la storia della cittadinanza in questo paese e questo lo confermano tantissime tantissime elementi che ci sono in questo decreto dalla riforma appunto della cittadinanza al rafforzamento ad esempio del centro elaborazione dei dati della polizia questo significa che il controllo sulla vita delle persone sarà sempre più violento sempre più oppressivo ed ossessivo per cui invitiamo come Radio Sherwood ad andare a Roma a discutere con tante realtà non solamente antirazziste ma realtà di base realtà di movimento che si confronteranno questo sabato per costruire un percorso verso una mobilitazione nazionale contro il decreto salvini come è emerso anche dalla piazza di riace ricordiamo ed è un altro dei temi che affronteremo questa sera che sabato scorso c'è stato un altro importante appuntamento assembleare è stata l'assemblea nazionale a bologna di non una di meno un appuntamento che è stato molto molto partecipato si parla di 700 non si parla è evidente anche da dalle foto che sono girate di 700 800 attiviste attivisti andati a bologna da da ogni parte d'italia si è discusso di tantissimi temi del reddito di autodeterminazione della costruzione anche qua di un percorso di mobilitazione nazionale contro le riforme dell'attuale governo ma più in generale un percorso che come ha sempre fatto storicamente non una di meno parli il linguaggio intrecciato dell'antisessismo con quello dell'antirazzismo è importante sottolineare il fatto che a fine novembre nelle giornate del 24 il 25 novembre ci sarà ci saranno una serie di piazze in tutto il mondo sappiamo che l'ultimo sabato di novembre è una data storica per i movimenti femministi in tutto il mondo ma c'è questa data che soprattutto ha una grande spinta che parte dall'argentina dopo quello che è successo st'estate rispetto alla legge contro contro il diritto d'aborto che ricordiamo è stata affossata in senato è stata affossata dal senato argentino ha visto una grande risposta da parte dei movimenti femministi in particolare di ni una menos per cui questa spinta globale ha delle conseguenze positive degli effetti positivi anche nel nostro paese quindi ci sarà una mobilitazione importante quel fine settimana anche in italia poi saranno altre cose ne parleremo in seguito nel corso della puntata noi ci ascoltiamo quello che dice marta di jon che è una compagna un attivista di ni una menos argentina che sottolinea come ci si organizza come si stanno organizzando le donne argentine sia contro il governo sia contro la chiesa che in argentina ricordiamo ha un grande impatto sulla vita delle persone sentiamo marta quando parlamo di aborto legal parlamo di deseo parlamo di una sexualità libera però anche del deseo di transformarlo tutto tutti questi concepti e molti altri se implicano in la luce per il aborto legal e non solo per il aborto legal sino per l'accesso al aborto che sappiamo che qua anche è difficile per la obcezione di concienza e per questo necessitiamo affrontarlo a fondamentalismi religiosi noi stiamo facendo una campagna che si chiama apostasia in argentina per desafiliare la chiesa catòlica las invitiamo a sumarmi a questa campagna per a che se entienda che la chiesa catòlica è colonialismo puro che encuentra nel corpo delle persone questo è un campo di battaglia e che questo risultato negativo che aveva il aborto legal estivo intimamente ligato con la presenza ovni presente in argentina del papa francisco che per che per la nostra è verboglia e che ci segue condenando a le donne a essere reproductori non solo della forza del lavoro ma solo che che siamo reproductori di questa cultura colonialista cristiana heterosexista e profondamente violenta e noi non potremmo negarmi a questo siamo tornati in studio quindi un'assemblea quella di bologna molto partecipata è un'assemblea che appunto come abbiamo sentito dalle parole di marta ha anche affrontato temi non soltanto non soltanto nazionali la roba allucinante che mentre in argentina si sta lottando per cercare di acquisire un diritto fondamentale come il diritto all'aborto in italia ci stiamo riducendo a dover difendere un diritto che ormai è stato acquisito tantissimi anni fa e acquisito con tante lotte da parte delle donne e non solo infatti ultimamente con questo nuovo governo e con il decreto pillon nello specifico che in breve parla di abolizione dell'assegno di mantenimento l'obbligatorietà della mediazione familiare anche questa questo fatto di della stipulazione di un piano genitoriale fondamentalmente sta attaccando l'autodeterminazione della donna l'assemblea nazionale di non una di meno è stata anche lanciata una una data molto importante che è quella di sabato prossimo sabato 13 ottobre ci sarà una grossa manifestazione a verona perché questa manifestazione a verona perché pochi giorni fa il consiglio comunale di verona appunto ha approvato una una mozione per finanziare quelle quelle associazioni cattoliche che si oppongono alla all'interruzione di di gravidanza e che portano avanti nel nel corso delle loro attività proprio delle iniziative in in tal senso è una mozione che è stata votata anche dal partito democratico è un un percorso che è iniziato già quest'estate nel nel consiglio al consiglio comunale di verona perché verona vogliono proclamarla la città della vita le attiviste di non una di meno verona ma non soltanto sono state sempre presenti durante tutte le le riunioni delle assemblee del consiglio comunale in cui si è affrontato il tema e anche sono state presenti anche in maniera in maniera particolare infatti sono sono entrate ogni volta vestite da da ancelle proprio per per indicare quel ritorno a un medioevo che continuando di questo passo davvero davvero ci arriveremo queste associazioni cosa vogliono fare vogliono convincere le donne a non abortire quindi il fatto di finanziare queste queste associazioni porta proprio questo questo lavoro davvero assurdo fortunatamente nel nella nella mozione non è passato anche l'obbligatorietà della sepoltura dei feti anche contro il contro il volere della donna quindi davvero parlare di questi argomenti e affrontare delle dei diritti che ormai sono stati acquisiti e davvero qui si sta tornando si sta tornando al medioevo perché proprio l'autodeterminazione della donna è davvero fortemente intaccata all'interno poi di tutto questo di tutto questo marasma all'interno di questa situazione davvero assurda in cui comunque la violenza sulle donne aumenta sempre di più in cui sono tantissimi i casi appunto di violenza sulle donne quando a diciamo a interessare l'argomento sono personaggi più famosi più che hanno un una caratura importante ovviamente cambiano un attimino cambiano un attimino le situazioni abbiamo pubblicato su sport alla rovescia un articolo che riguarda il caso cristiano ronaldo che ho scritto io che riguarda appunto il caso cristiano ronaldo noi io non ho affrontato diciamo il caso cristiano ronaldo da un punto di vista giudiziario e noi nessuno di noi vuole sentirsi detentore della della verità vuole accusare cristiano ronaldo ma quello che è successo soprattutto in italia è stato un sovvertimento delle responsabilità la donna la l'ex modella sta diventando quasi da vittima sta diventando la l'accusatrice e cristiano ronaldo sta diventando da da carnefice la vittima da difendere i media nazionali e soprattutto anche le le televisioni hanno difeso in italia spada tratta cristiano ronaldo l'hanno difeso anche con delle dichiarazioni molto pesanti che sono in linea con quello che è appunto il periodo che stiamo vivendo per citarne una giampiero mughini ha detto che lo stupro non è violenza quello che manca in italia è la cultura del no se una donna dice no l'uomo anche se l'ha portata in camera da letto deve fermarsi ma la società italiana che una società prettamente patriarcale maschilista forse ancora non è pronta ad accettare il no da parte di una donna soprattutto se sei ricco bello e famoso e hai i soldi ti senti in diritto e in dovere di continuare questo rapporto sessuale o comunque di fare della della vita di una persona quello che vuoi bentornati e andiamo verso le conclusioni parliamo di uno degli argomenti che tiene banco nel nelle ultime settimane quello della manovra finanziaria e ieri abbiamo visto il balletto di cifre tra il ministro tria e il ministro salvini rispetto alla flat tax ma sicuramente uno dei temi che ci interessa di più approfondire come movimenti è quello del reddito innanzitutto occorre fare una distinzione semantica rispetto alla proposta fatta da di maio per cui il movimento 5 stelle ha fatto una campagna elettorale importante e invece quello che è il reddito per come lo concepiscono i movimenti ci sono almeno tre ragioni per le quali possiamo dire che quello proposto da di maio e quindi assunto nella manovra finanziaria non è un reddito di cittadinanza bensì un sussidio di povertà la prima ragione è legata al fatto che il reddito per come l'abbiamo sempre concepito nel dipattito politico non solamente a livello di movimento è qualcosa che va oltre il lavoro quindi è oltre la prestazione lavorativa invece la il sussidio di povertà che è incluso nella manovra è coazione al lavoro alcuni l'hanno definita una vera e propria governance della povertà c'è stato ad esempio tanto dibattito sulla questione del controllo telematico della spesa possibile ecco tutte queste ragioni fanno sì che non si tratta di un emancipazione della povertà ma appunto è un controllo della stessa e un controllo dei poveri il secondo tema riguarda la fascia di persone che sono incluse all'interno della della misura e stiamo parlando della povertà assoluta e non della povertà relativa la povertà relativa in italia in europa e quella soglia all'interno della quale rientrano tutte le persone che hanno un livello di spesa inferiore alla media per cui l'idea emancipazione attiva legata al reddito e che soddisfi non solamente i bisogni primari ma soddisfi l'ambizione ad avere una qualità della vita dignitosa quantomeno pari a quella di altre persone all'interno del paese il terzo elemento è quello più discriminatorio sicuramente quello più discusso ossia il fatto che il reddito solamente per gli italiani di fatto tutti gli stranieri presenti al nostro paese sono esclusi da questa misura e questo oltre a come dire rafforzare il carattere razzista di questo governo si inserisce anche all'interno di un meccanismo più complesso e un meccanismo globale ossia quello del diritto differenziale quello dell'accesso differenziale differenziale in base alla razza in base al genere ai diritti e alla cittadinanza oltre a questo la misura va a mio avviso colta un po nella sua complessità per cui oltre alla questione del reddito va vista anche un po la questione della fiscalità per questa ragione è importante anche valutare gli effetti della flat tax questa manovra non attacca le rendite non attacca i grandi patrimoni non attacca la finanza così come è stato millantato ma è una manovra invece che favorisce soprattutto con la flat tax favorisce i grandi patrimoni favorisce di fatto i ricchi per cui questo in breve è il quadro vedremo come si svilupperà il dibattito soprattutto sulla questione europea che è l'altro grande tema il 2,4 per cento del rapporto fra debito pubblico e PIL che poi è stato corretto nella nota integrativa vedremo quanto sia la Lega che il Movimento 5 Stelle se lo giocheranno dal punto di vista demagogico dal punto di vista populistico più che quanto realmente possa avere impatto nella ridiscussione complessiva del fiscal compact detto questo cedo la parola a Davide entriamo nel merito di un'altra questione che è quella delle elezioni brasiliane quindi allarghiamo l'orizzonte parliamo di politica estera sì concludiamo con la politica estera e ci trasferiamo in Sud America in Sud America e nello specifico in Brasile Brasile che sta virando in maniera molto pericolosa a destra infatti Jair Bolsonaro candidato militarista misogino razzista e fascista è andato vicino alla vittoria addirittura al primo turno delle presidenziali in Brasile è un distacco quasi del 40 per cento e ovviamente la vittoria al ballottaggio del 28 ottobre sembra storia già scritta questa vittoria è da inquadrarsi in una situazione quella brasiliana un pochettino particolare sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista sociale ed economico dal punto di vista politico sicuramente le vicende giudiziarie di Lula hanno influito fortemente sul sul risultato del del proprio partito e in Brasile attualmente c'è anche una fortissima crisi economica e quello che succede ancora nelle favelas brasiliane è una forte e una forte violenza dovuta anche ovviamente alla situazione economica il candidato il candidato Bolsonaro ovviamente ha utilizzato una propaganda della paura e dell'odio che è una propaganda che abbiamo che stiamo vedendo ormai utilizzata in maniera forte e preponderante in tutte le campagne elettorali europee e non solo i voti sono stati trasversali ha ricevuto voti dalla classe media dalla classe borghese ma anche i poverissimi hanno votato hanno votato la destra hanno votato la destra perché hanno la speranza un attimino di uscire da quello che è la loro condizione sociale in un'intervista un narcotrafficante ha affermato che qualunque cosa va bene pur di non continuare a fare il narcotrafficante e quindi ha dato speranza ha dato speranza al candidato di estrema destra l'unico l'unico diciamo aspetto positivo di queste elezioni in in brasile che ovviamente approfondiremo a risultati a risultati certi il il 28 ottobre appunto dopo dopo il ballottaggio è quello che per la prima volta è stata eletta nel nel parlamento brasiliano una donna indigena quindi questo è l'unico sicuramente aspetto positivo di questa storia davvero davvero pericolosa e quindi il sud america che sempre abbiamo guardato con un occhio di riguardo come anche laboratorio sociale politico perde un altro un altro pezzo e i paesi come il venezuela rimangono adesso sempre più sempre più isolati e quindi sicuramente anche in sud america da un punto di vista sociale politico ne vedremo delle belle ma approfondiremo il l'argomento più avanti c'è un articolo sul global project punto info che spiega bene questa prima tornata elettorale in brasile e torneremo più avanti su questo su questo argomento bene ci salutiamo e ci vediamo giovedì prossimo annunciamo già che parleremo per la prima volta in questo dg sharewood anche di padova ciao a tutti ciao